Non me ne dà che voi con lo steno sacchetto? Oddio, ho intero una delle nostre amiche. È vero, sono completamente nure. Non lo so che dobbiamo fare. Possiamo tempo, in realtà... Dove si sparire. Chiedevo che lui avessero ucciso, ma... Sì. Sarà meglio farli uscire. Sì. Allora, all'altro. No. Sali su questa scala magica Ma tu non ti arrendere mai Tu non ti abbandonare E mai la guerra sconfiggerai Non avere paura neanche un po' di quello che accada Non avere paura neanche un po' di quello che accada Dai mettiti questo non ti preoccupare Non avere paura neanche un po' di quello che accada Sarà copicatissimo dai Grazie a tutti 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 Quello travestire vado di qua Grazie a tutti 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 Grazie a tutti